Nella mattinata di ieri il sindaco di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara ha emesso una nuova ordinanza per confermare e prorogare quella del 16 luglio, che disponeva il conferimento della frazione secca indifferenziata solo il lunedì dalle ore 20 alle ore 24 ed il conferimento della frazione umida nei giorni di martedì, giovedì e domenica. Sono giorni difficili, afferma il primo cittadino, che ci vedono esposti in prima linea per il ripristino di un servizio fondamentale, atto a garantire le migliori condizioni di pulizia, igiene e decoro nel nostro territorio.